Sì, non c'è qualcosa di più, non c'è nessun ritardo, ragazzi, non c'è nessun ritardo. Ma sì, ho pensato una cosa, scusate se parlo del mio regista, e il giorno in cui non dirò più, non è verità, perché secondo me lo scontratore fanno uno shock, su mezzo uno shock. Allora, che ne dite invece di alzare un po' il volume della radio, perché adesso vi vedete veramente la sorpresa che ci sono stati segnalati due visitati, per quanto riguarda questo, lo accompagneranno dai ganci, ci sono i sorelleci, colleghi, parenti, voi, i mariti, fidanzati, bla bla bla, più neanche in messa. La prima telefonata va a questo... Vatti, buongiorno. Non so se risponde perché non so. Più avanti sono con me, più sono impegnati. La prima telefonata è un'ottima. Un'ottima. Non so se risponde. Non so se risponde.